Oroscopo del giorno, venerdì 15 maggio 2020 A rete Amore, il vostro cuore è pieno di emozioni e vi sarà difficile esprimere ciò che provate. Tuttavia troppo silenzio non fa bene l'amore. I single saranno alla ricerca di nuove amicizie, ma sarà meglio evitare quelle poco affidabili. Lavoro Un risultato importante sul lavoro vi farà piacere. L'impegno e la tenacia, ma anche bravura e abilità, sono le vostre carte vincenti. Toro Amore Sarete pieni di energia, pronti per dare il massimo nella vita di coppia. Regalatevi una serata rilassante insieme al partner. La luna è con voi Giornata piacevole per i single, che potranno trovare l'amore. Sarete dolci e romantici come mai prima d'ora. Lavoro Avrete le idee più chiare su come rendere solida la vostra posizione professionale. Adotterete strategie vincenti. Gemelli Amore Giornata impegnativa sul fronte privato. Dovrete anche confrontarvi con una piccola questione familiare. Usate tatto e comprensione per non ferire gli altri. Se siete single, potrete fare nuove amicizie sui social network, ma fate attenzione alle fregature. Lavoro Se lavorate alle dipendenze altrui, potranno esserci conflitti. Ma non tirate troppo la corda. Agite con diplomazia. Cancro Amore Oggi vi sentirete un po' sottotono e un calo di umore potrebbe portare ad alcune tensioni con il partner. Tuttavia si tratterà di questioni facilmente risolvibili. I single potranno chiedere un confronto comunicativo con una persona. Lavoro La voglia di lanciarsi in nuovi progetti non manca, ma potrebbe mancare quello slancio per imboccare la strada lavorativa più facile. Leone Amore Nonostante la luna dissonante, la tenuta emotiva è buona. Sul fronte privato, accettate con entusiasmo le proposte del partner. I single dovranno lasciarsi alle spalle il passato e apprezzare il presente per poter capire quale direzione prendere. Lavoro Anche la mente oggi trova il giusto spazio. Nuove idee sono in arrivo. Impegnatevi per allargare il vostro raggio d'azione. Vergine Amore Il periodo potrebbe essere ricco di cambiamenti. Chi ha problemi di coppia troverà spunti per mettere in sicurezza più di qualche situazione. Buone prospettive anche per i single. Incontrerete una persona speciale. Lavoro Nel lavoro dovrete sforzarvi un pochino di più e cercare di mettere a frutto le vostre capacità organizzative. Bilancia Amore Oggi il versante amoroso sarà molto intrigante e in molti sorgerà il desiderio di rinnovare una passione rimasta un po' sopita nelle ultime settimane. Invece per i single si profila all'orizzonte una giornata di dubbi, soprattutto in ambito sentimentale. Lavoro Le scelte professionali potrebbero non risultare fortunatissime, ma un buon intuito vi farà evitare il peggio. Scorpione Amore Con la vicinanza di sole e marte in amore si prevede una giornata tranquilla, non priva di momenti particolari in cui potrebbe essere richiesta una maggiore attenzione. I single avranno molte occasioni di colpire il bersaglio e instaurare una bella intesa sessuale. Lavoro Per il settore lavorativo meglio evitare di forzare i tempi o le situazioni basandovi esclusivamente sull'istinto. Sagittario Amore Buone energie sono in arrivo in questa giornata. Per le coppie gli astri prevedono momenti magici con eventi anche inediti. Se siete single sarà opportuno non lasciarsi sfuggire le belle occasioni che passano una volta sola nella vita. Lavoro Sarete pronti a lanciarvi in numerose attività creative. Il lavoro potrebbe offrire nuovi stimoli, ma anche battibecchi con i colleghi. Capricorno Amore Le coppie oggi potranno vivere una giornata rilassante e avranno le giuste occasioni per rinsaldare l'intesa. Chi riuscirà a mantenere armonia ed equilibrio potrà dire di avere raggiunto la felicità. Giornata tutto sommato discreta per i single, che potranno viverla con spensieratezza. Lavoro Sul lavoro ci saranno situazioni che si evolveranno in direzioni diverse, ognuna delle quali potenzialmente alla vostra portata. Acquario Amore Oggi in amore è richiesta più pazienza nei confronti del partner, evitando discussioni per questioni davvero inutili. L'erotismo invece potrebbe risultare poco appagante. Le stelle suggeriscono ai single di non ascoltare i consigli di un confidente poco sincero. Lavoro Giornata complessa, quella che si profila all'orizzonte per i nati del segno. Oggi sul lavoro sarete più nervosi del solito. Pesci Amore In amore chi sta vivendo una relazione sentimentale poco felice potrà contare su un ritorno di fiamma. Buone le possibilità di rimettere in carreggiata una relazione. Alcuni single potrebbero vivere avventure inaspettate. Lavoro Nel lavoro potrebbe essere arrivato finalmente il vostro turno. Avete obiettivi da cogliere, le stelle vi sorrideranno, datevi da fare. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Il video ti è piaciuto metti mi piace,